Questa è una giornata speciale per noi, a parte che dovrebbe essere il primo giorno di primavera, quindi in questo anno speriamo che porti grandi cose. Lo dedichiamo alla gentilezza, giornata dedicata alla gentilezza ai nuovi nati, questo è un po' il tema, ed è una giornata che ci fa unire due cose importanti. Una è quella di dare un'accoglienza e un sostegno ai nuovi nati, che per noi da qualche anno è fondamentale, e l'altra è scoprire un'opera che viene dedicata a questo territorio e fa parte del progetto che ci è stato proposto, di adesione alla giornata della gentilezza, con un autore, un artista del nostro territorio e quindi diamo sempre più importanza e sostegno alla nostra comunità. Sperando che questa giornata sia un esempio per tutti, perché la gentilezza potrebbe significare tante cose, può per qualcuno essere banale, ma non lo è mai. Oggi sempre di più vediamo azioni, parole, cattive, volgari, e bisogna invece reagire non allo stesso modo, ma in maniera contraria. Per me è una grande forza, e ai bambini possiamo trasmettere solamente questo, una grande forza nella gentilezza.